Era esattamente un freddo inverno di 5 anni fa, ci troviamo a foce di Monte Monaco. Fra queste montagne, dopo una copiosa nevicata, una slavina bloccò completamente la strada di accesso al paese. Con le nostre telecamere siamo esattamente nel punto preciso dove terminavano le comunicazioni con la piccola frazione. A causa della slavina infatti rimasero isolati tre nuclei familiari per un totale di 9 persone. Una slavina di 6 metri d'altezza, con fronte di venti, che aumentava continuamente a causa dello scarico a valle di cumuli di neve che si formavano sulla sommità della montagna. Un grande spavento per i 9 isolati che trascorsero 4 giorni fuori dal mondo. La loro avventura terminò grazie all'arrivo di un elicottero del Corpo Forestale dello Stato. Tutti e 9 gli isolati, fra i quali anche due ragazzini, ricevettero provviste fresche di viveri e di altri generi di conforto. Ecco la testimonianza di questo signore, protagonista di quella brutta esperienza. Sì, mi ricordo quel periodo che ci fu una discussione per capire il motivo. Che ancora è un pericolo, che ancora ci esiste, perché se chi preleva l'acqua non sa portare, curare e fare quello che fanno tutti, l'abbandono per strada, succede le frane e succede che si perde tutta l'acqua. Ogni volta che nevica o che le condizioni meteo sono avverse, qui a Foce il pensiero ritorna a quell'inverno 2005. Ad ogni singola nevicata, infatti, cresce la paura di rimanere ancora isolati dal resto del mondo. Appure rimane sempre.